La terza piaccia è usare le tecnologie e uno sviluppo economico diverso. Dopo aver corso 60 km in mezzo al nulla e ti ritrovi sotto il diluvio universale a dover piantare la tenda, farti da mangiare, eccetera, il mio primo pensiero era quello di sopravvivere, ma quindi anche vivere della bellezza di quello che mi circondava. Un pretesto per parlare dell'uomo, raggiungere un futuro prospero, verso la realizzazione di società veramente inclusive. guidare, indirizzare, aiutare, proteggere. Questo è italiano contemporaneo, ma scritto nei tempi in cui è nata sta città. La terza piaccia è usare le tecnologie e la terza piaccia è usare le tecnologie e le tecnologie e le tecnologie. iniziamo? Grazie! Grazie mille!